ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale oggi voglio parlarvi di un argomento super interessante che riguarda non solo la vostra alimentazione ma anche come potete migliorare il vostro benessere attraverso sostanze naturali ma potenti sto parlando della nutraceutica e di una pianta davvero speciale l'ashwagandha pronti sigla ok però facciamo un passo indietro prima di parlare dell'ashwagandha cerchiamo intanto di capire cos'è questa nutraceutica la nutraceutica è quella branca della scienza che studia come i cibi o i loro estratti possano avere effetti benefici sulla salute immaginate una fusione fra nutrizione e farmaceutica ecco la nutraceutica è proprio questo ma aspettate un attimo se pensate che mangiare solo frutta verdura e cereali integrali sia tutto quello che vi serve per stare bene beh siete sulla strada giusta ma c'è di più anche se mangiate in modo perfetto potreste non riuscire a ottenere tutti i benefici che certi principi attivi naturali possono offrire è proprio qui che entrano in gioco gli integratori nutraceutici che possono darvi una marcia in più veniamo al protagonista di oggi l'ashwagandha magari vi sembra il nome di un supereroe e in certo senso un po lo è l'ashwagandha è una pianta utilizzata da migliaia di anni nella medicina tradizionale orientale soprattutto in india quindi medicina ayurvedica e negli ultimi anni anche la scienza occidentale ha iniziato a scoprire quanto sia efficace ma perché è così speciale l'ashwagandha è definita una pianta adattogena e cosa vuol dire gli adattogeni sono sostanze che aiutano il corpo a gestire lo stress e a mantenere l'equilibrio ovvero l'omeostasi in parole semplici se siete sotto pressione per la scuola per lo sport o semplicemente per la vita di tutti i giorni l'ashwagandha può aiutarvi a mantenere la calma e a migliorare la vostra qualità di vita veniamo ora ai benefici dell'ashwagandha o ginseng indiano i benefici sono davvero tantissimi e riconosciuti da vari studi scientifici ad esempio 1 riduzione dello stress e dell'ansia il ginseng indiano è in grado di ridurre i livelli di cortisolo l'ormone dello stress aiutandovi a sentirvi più rilassati e sereni 2 miglioramento del sonno se fate fatica a dormire l'ashwagandha potrebbe essere la vostra nuova migliore amica aiuta a migliorare la qualità del sonno facendovi svegliare più riposati e pronte a affrontare la giornata 3 supporto al sistema immunitario potenzia le difese immunitarie aiutando il corpo a difendersi meglio da malattie infezioni 4 aumento del testosterone in noi maschietti per chi di voi si allena regolarmente l'ashwagandha può anche contribuire a aumentare i livelli di testosterone favorendo la crescita muscolare e migliorando le prestazioni fisiche veniamo ora come scegliere il migliore integratore di ashwagandha attenzione non tutte le ashwagandha sono uguali quando decidete di acquistare un integratore è fondamentale che scegliate un prodotto di qualità il tipo di ginseng indiano che dovreste cercare è quello in forma ksm 66 questo è l'estratto a spettro completo delle radici della pianta ed è stato ampiamente studiato per i suoi benefici ricordate anche di controllare la concentrazione di vitanolidi il principio attivo dell'ashwagandha che deve essere pari o superiore al 2 per cento solo così sarete sicuri di ottenere tutti i benefici di cui abbiamo parlato quindi ragazzi ricordate la nutraceutica può davvero fare la differenza nel vostro percorso di benessere ma è essenziale fare scelte informate e consapevoli l'ashwagandha è solo uno degli esempi di come la natura ci offra soluzioni potenti per migliorare la nostra salute ma è importante scegliere prodotti di qualità e come sempre consultare un medico o un esperto prima di iniziare qualsiasi integrazione se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel like ed iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdervi nessuna delle prossime puntate se avete domande e volete saperne di più scrivete qua sotto nei commenti e alla prossima ciao